Chiudere l'aeroporto è stato necessario per limitare la diffusione del coronavirus, ma questa situazione non si può protrarre oltre per non mettere a rischio la tenuta dell'intero sistema economico locale. Ripercussioni pesantissime ci sono già state nel breve periodo, come la chiusura delle attività commerciali interne allo scalo e il blocco degli autonoleggi, ma quelle nel lungo periodo potrebbero essere ben più gravi, portando al dirottamento dell'intero traffico merci su Bari. Il governo intervenga subito, dice Dattis, o sarà troppo tardi. Subito la replica di aeroporti di Puglia, in merito ad alcune prese di posizione assunte nelle scorse ore sulla chiusura dell'aeroporto del Salento, è quanto mai opportuno ribadire che la stessa è stata disposta con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'ambito di un processo di razionalizzazione delle attività aeroportuali che ha interessato la totalità del sistema aeroportuale italiano, scrive la società che gestisce gli aeroporti pugliesi. In questo difficile contesto, individuare responsabilità o ancora peggio attribuire a Regione Puglia e aeroporti di Puglia la paternità di scelte adottate al solo fine di penalizzare l'aeroporto del Salento e il suo territorio appare quanto mai inopportuno e fuori da ogni logica di buonsenso. Aeroporti di Puglia, prosegue la nota, sta già intervenendo con importanti lavori di manutenzione straordinaria in aerostazione, così come prossima alla ripresa dei lavori inerenti all'adeguamento delle infrastrutture di volo, affinché in presenza di nuove disposizioni della MIT circa la ripresa delle attività, i vettori possono riprendere l'operatività sullo scalo salentino, in assoluta sicurezza e garantendo il diritto alla salute dei passeggeri.